buongiorno a tutti allora innanzitutto vi ricordo questa sera che sarò sul canale di alessandro catto insieme al balleriani naturalmente ad alessandro poi ci dovrebbe essere anche la gobbato però non so se farà solo da moderatrice o se sarà presente anche in video comunque poi finita la diretta con loro tre o con loro quattro passeremo sul mio canale youtube per proseguire la diretta col gigione fino alle 2 3 di notte come facciamo sempre detto questo call news perché dopo le call news vi farò naturalmente le schedine e bollettine del gigione per la champion sperando che vadano un attimino meglio di settimana scorsa anche se sarà un casino lo stesso veniamo a queste cinque notiziole quattro sono veloci veloci dalle orecchie tristi non tristi eccetera non vi dico nulla non vi anticipo nulla questa invece è una riflessione su una cosa che purtroppo quando avviene e io ne so qualcosa ci lascia punto non c'è bisogno di aggiungere altro quando le madri ci lasciano si portano via un pezzo della nostra anima la perdita di una madre è una delle prove più difficili nella vita di tutti non importa che età questo lutto avviene quando le madri ci lasciano perché la morte decreta questa separazione si verifica nei figli e nelle figlie una profonda sensazione di vuoto è come se si perdesse un pezzo della propria anima dopo gli stadi del lutto rimane nel cuore una sensazione di dolore indelebile a causa della perdita di un genitore è infatti necessario accettare la morte di una madre anche quando ci si autoconvince di questa separazione restano i ricordi e si può preservare l'amore nei confronti della donna più importante della propria vita quando le madri ci lasciano da sole o sole soli o sole purtroppo ad affrontare il mondo si avverte un iniziale senso di smarrimento il dover convivere con la loro assenza è un itere motivo faticoso bisogna da prima convincere la mente e poi il cuore anche se il loro corpo non sarà più vicino a noi resterà il loro amore e le memorie condivise insieme questo tipo di amore è uno dei sentimenti più nobili e profondi che esistono tra i rapporti umani per questo è difficile accettare la morte della propria madre sin da piccoli ci si abitua a fare affidamento alla sua figura e poi con il tempo il rapporto si consolida il legame tra madre e figlio si mostrerà per tutta la vita forte e profondo per questo non si spezzerà nemmeno quando una madre lascia questo mondo quando le madri ci lasciano una perdita continua che continua a sentirsi sempre mi fermo un attimo e poi proseguiamo dicevamo quando le madri ci lasciano è una perdita che continua a sentirsi sempre la perdita di una madre è una delle prove più difficili nella vita di tutti non importa che età questo lutto avviene dal momento che lei è stata per tutta la vita una figura insostituibile e è impensabile dover rinunciare ai suoi consigli confidenze e persino critica e rimproveri i figli agli occhi di una madre sono sempre i loro piccoli per cui è necessario sempre prodigarsi per proteggerli ed ottenere il loro benessere una mamma è sempre pronta a stare accanto al suo figlio per proteggerlo sotto la sua ala di chioccia premurosa e devota anche da grandi non smetterà di considerare i suoi figli dei bambini da difendere dal mondo e dalle persone ogni madre percepisce i dolori e le preoccupazioni del proprio figlio come suoi per questa ragione se si pensa a tutto quello che nella loro vita hanno fatto per i propri figli è chiaro che nulla e nessuno potrà sostituire una mamma quindi nessuno compenserà la sua perdita il dolore per la sua morte lascerà un vuoto come che non può essere colmato dopo il dolore iniziale si acquisterà maggiore maturità e coraggio pur consapevoli del fatto che il tempo non guarirà la sofferenza legata alla perdita della madre ma per sentire meno dolore ci si può consolare pensando che una mamma continuerà a vivere sempre nel cuore dei suoi figli bene cioè bene insomma io ne so qualcosa auguro a tutti i miei follower di purtroppo prima o poi succederà ma spero che succederà il più tardi possibile possibile e ancora possibile più tardi ecco detto questo mi rifermo un attimo andiamo a delle notizie più tranquille tra virgolette notizia velocissima da leccarsi le orecchie tamponamento frattire in tangenziale camionista salvato dai vigili del fuoco notizia del 14 luglio 2020 che magari pochi sapevano perché notiziola incidenti e tramezzi pesanti sulla tangenziale di milano poco prima di cormano in direzione venezia l'autista di uno dei due tiri è rimasto incastrato nella cabina di guida ma è stato estratto in collume dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con ben quattro squadre sulla tangenziale il traffico ha subito ovviamente pesanti conseguenze e la tangenziale di milano venezia già è incasinata quando non succedono gli incidenti mi sa che il 14 luglio peggio della rivoluzione francese no però mi sa che avranno sclerato parecchio notizia del 13 luglio 2020 che arriva da pacchino rischia di annegare a pacchino giovane salvata dai bagnini e da un nord africano è successo nel pomeriggio del 13 luglio poco dopo le 18 nello specchio acqueo antistante la relina è lungo la strada che collega marzameni a portopalo è stata salvata dalle onde di un mare con pericolose correnti di risacca una giovane bagnante pacchinese è stata recuperata in mare nel pomeriggio del 12 luglio presumo non 13 perché se la notizia è andata al 13 luglio era ieri quindi il 12 luglio a largo della spergia di contrada morghella dai bagnini nino cannarella e giovanni petralito in servizio al lido morghella sentiamo come hanno raccontato questa questa situazione ecco cosa dicono abbiamo adottato la giovane donna in difficoltà e ci siamo precipitati in mare per soccorrerla in aiuto ai due si è giunto abubakar un ragazzo nord africano che ha assistito a quanto stava accadendo e non ha esitato a tuffarsi in mare per contribuire a salvare la vita della giovane pacchinese i tre sono riusciti a salvare la minorenne e portarla a bordo del pedalò sana e salva fino a riva la giovane donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e medici e paramedici hanno constatato le buone condizioni di salute sul posto sono intervenuti anche i militari della guardia costiera ecco tutto è bene come diceva qualcuno quando finisce bene ecco notizia curiosa curiosa perché siamo a siracusa sicilia comunque cassabile provincia di sigracusa immigrato clandestino africano gira nudo in città tra donne e bambini era in cerca di una preda a punto di domanda cittadini furiosi si raddurano davanti alla baraccopoli dove sono finiti gli accoglioni questi non lavorano devono andarsene lo riporta a radio savana sul suo profilo twitter la notizia del 15 luglio 2020 la reazione degli utenti grazie alle zecche comuniste viviamo in questo degrado il primo che dice che anche gli italiani lo fanno mi fa veramente incavolare oggi noi italiani siamo troppo civili ed educati e quindi preferiamo lasciar perdere mandate qualche buonista a dialogare con lui è una vergogna assoluta i migranti fanno ciò che vogliono sono intoccabili è uno schifo preferisco non dire nulla perché sennò poi succede che divento poco politica ricorrente ci metto il carico da 90 quindi direi che le proteste siano più che giuste poi dopo ci sarà sempre qualcuno che direi ma poverini loro sono abituati così ho capito ma così tu a parte che gli offendi molto di più che uno che li offende perché sono di colore perché praticamente se tu mi dici che è normale che una persona giri nuda ed è abituato così capisci che gli stai dando del puntini puntini comunque sorvogliamo io vi do la notizia vi dico anche le reazioni che hanno avuto i cittadini di siracusa davanti a sto fatto e proseguiamo questa è una notizia invece che fa ridere ma binga troppo pompe funebri in crisi in norvegia pochi morti le misure anti covid hanno bloccato altri virus una mezza dozzina di aziende che operano nel settore hanno chiesto aiuti di stato persone anziane che in circostanze normali sarebbero decedute sono invece ancora vive e d'altronde se uno fa il cassamortaro e la gente non muore più questi muoiono di fame la pandemia da coronavirus continua a spaventare parte del mondo ma in norvegia una combinazione di fattori ha messo in difficoltà in questi mesi le aziende di pompe funebri al punto che alcune di queste hanno chiesto aiuto allo stato a causa della mortalità in calo e dell'impossibilità di celebrare cerimonie funebri da documenti pubblici risulta che una mezza dozzina di aziende che operano nel settore hanno chiesto aiuti di stato oppbacco oppbacco la famiglia lande da tre generazioni leader nel campo ha sottolineato l'unicità della situazione sentiamo cosa dicono a quanto pare le misure imposte per contrastare il coronavirus sono state efficace anche su altri virus ha spiegato eric lande alla afp e prosegue al punto che alcune delle persone anziane che in circostanze normali sarebbero decedute sono invece ancora vive solitamente l'azienda gestisce in media 30 cerimonie funebri in un mese ma dopo l'introduzione delle misure anti covid in norvegia a marzo il numero è precipitato a meno di 10 in nessun caso si è trattato di decesso per covid 19 quindi come si dice di solito no c'era una battuta del del buon alberto sordi che diceva se io vuoi la guerra io vedo armi quindi è brutto da dire però se uno fa il cassamortaro appunto ha una vita di pompe funebri se la gente non muore lui muore di fame quindi mors tua vita mia dicevano gli antichi ma anche su questa sorvogliamo e ci vediamo alla prossima ciao